Basta, 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 chiudi Massimo, chiudi, dai, ce la faccio, non ce la faccio, scusate, non ce la faccio, sono troppi ricordi, troppi ricordi. Disturbiamo, presidente. No, no, scusate, scusate, ero al computer, anche da ieri sto riguardando un po' di foto, come avete detto voi, del 22 maggio, insomma, anche, esatto, anche foto un po' inedite che ho io, insomma, ne ho ritrovato, poi insomma, con un paio di giocatori, insomma, a girare per Milano la mattina. Poco simpatico, ecco, forse è meglio che rimangano nel computer, certo, però, ecco, diciamo che sono decenni, no, come dicevate voi ieri, di questo triplete, no, grandi, grandi momenti, mi commuovo ancora, insomma, se li penso poi, quella festa all'Alba, Sassino, anche perché con tutti i soldi che ho speso, ecco, tra l'altro ho visto in questi giorni, no, dicevate anche voi, insomma, la reunion, no, dei campioni del triplete sui soldi, no? Sì, sì, vero, vero, sì. Una cosa anche molto simpatico, ecco, ho visto, ho visto anche lo Snyder che mi ha fatto un messaggio, no, che mostrava, ecco, un braccialetto, un ciondolo che gli ho regalato io a tutti i giocatori, no, per festeggiare, poi, vabbè, ecco, a uno, giustamente, ecco, ho regalato un Porsche nuovo di Zecca, no? No, insomma, anche perché ce lo meriteva, no, questo qua gli ho fatto un regalo in più. Può dirci chi era, Milito, magari, insomma, che ha fatto una stagione. No, 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 Recoba, Recoba. No, ma in Recoba non c'era il triplete, cosa c'entra in Recoba? Cosa c'entra che non c'era? Siamo arrivati a un certo livello, insomma, giustamente, a vincere tutto è che, quindi, chi ci ha portato prima quel livello lì, no? Quindi a Recoba andrà premiato e credo che tra l'altro ce l'abbia ancora, libro paga il cinese, è da contratto, nel senso, compri l'Inter, paghi il Recoba, se no, niente, ecco, comunque, ecco, ho visto che il 22 maggio è stato anche il giorno, insomma, di un'estra grande vittoria per i Gobaci, sì, 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 sì. Ho visto anche tante foto pubblicate, insomma, dai loro tifosi, della Champions del 96, addirittura alcune rarissime a colori, ecco. Ah, ma qua sto sconto, eh, c'erano già colori, c'erano già colori, c'erano già colori. C'era una battuta, sai quanta polvere che c'era su quelle foto lì, un po' vecchia, va beh, che le iniziano a dieci anni.